Il weekend dell'Immacolata trascorrerà all'insegna del bel tempo ma anche di un clima un po' più freddo a causa di correnti fredde di origine artica che proprio nel fine settimana investendo l'Europa orientale riusciranno a lambire anche l'Italia determinando un calo delle temperature mentre il tempo si manterrà bello come ci conferma la grafica della previsione per sabato prevalenza di sole al nord sulle regioni tirreniche in Sardegna appena qualche nuvola in più sul versante adriatico e all'estremo sud ma senza fenomeni significativi Attenzione ancora al freddo di inizio giornata con temperature minime leggermente sotto zero al nord nelle zone interne del centro dove si formeranno deboli gelate Per quanto riguarda le temperature pomeridiane saranno in calo al nord dove le massime resteranno al di sotto di 10 gradi stazionari altrove con massime comprese tra 7 e 15 gradi al centro tra 12 e 17 al sud e sulle due isole maggiori inoltre soffieranno ancora moderati venti settentrionali sul versante adriatico e su quello ionico Concludo con un cenu alla giornata di domenica 8 dicembre festa dell'immacolata che trascurrerà ancora all'insegna del sole con appena qualche nuvola innocua e del freddo tipicamente invernale al nord sul versante adriatico dove soffieranno ancora venti settentrionali Maggiori dettagli su questa tendenza nelle prossime edizioni